A Piazza Dosturzo a Palermo nel giorno di San Valentino, ricorrenza dedicata all'amore, la polizia con il suo personale sceglie di stare vicino alle donne con la campagna Questo non è amore che prevede la presenza di un camper in piazza per aiutare le vittime di violenza di genere a rompere l'isolamento con il supporto di un'equipe multidisciplinare composta da operatori specializzati della Polizia di Stato e da rappresentanti dei centri antiviolenza locali. L'iniziativa del camper contro la violenza di genere, partita a luglio 2016, in poco più di due anni ha consentito di contattare migliaia di persone in maggioranza donne diffondendo informazioni sugli strumenti di tutela e di intervento su situazioni di violenza e stalking che diversamente sarebbero potuti rimanere ingabbiati nel dolore domestico. La flessione negli ultimi anni dei delitti tipici, dai femminicidi alla violenza sessuale, dai maltrattamenti in famiglia agli atti persecutori non ferma l'impegno di prevenzione, non solo perché il numero assoluto delle vittime continua ad essere inaccettabile ma perché l'esperienza di polizia e di associazioni, da tanti anni impegnati su questi temi, mostra l'esistenza di un sommerso che troppo spesso non si traduce in denuncia. Un quotidiano fatto di attenzioni morbose, di comportamenti aggressivi e atti intimidatori che vengono letti come espressione di un amore appassionato e di una giulosia innocua, anche da madri, sorelle e amiche ma che costituiscono spesso il triste copione di un crescendo di violenza che si alimenta con l'isolamento.